Ciao cari amici, lezione 58. Oggi impareremo a creare il gerundio dell'aspetto perfettivo dei verbi russi che si costruisce in base alla forma del passato maschile dei verbi perfettivi applicando questi quattro tipi di desinenze. Naturalmente vi ricorderò un attimo che cos'è il gerundio per italiani. Se i verbi italiani terminano in are avranno il gerundio con ando, mangiare, mangiando. Invece in ere e ire terminano con endo, partire, partendo, scrivere, scrivendo. Adesso torniamo al russo. Ci sono quattro regole. La regola numero uno. Se verbo, passato, maschile, regolare, cioè termina con consonante EL, questa consonante dobbiamo scambiare con consonante V. Pracital, un pracital, ha letto, lui ha letto un libro. Pracital. Quando scambiamo, pracitav, dopo aver letto il libro. Privios, per mezzo di trasporto, prignos, a mano, portato a mano. La regola numero due. Se i verbi terminano con un'altra consonante non come EL, a diversi, basta aggiungere SHI. Aggiungere, non scambiare come in questo caso, basta aggiungere. La regola numero tre. Esistono i verbi che hanno doppia forma. Che si può aggiungere SHI, si può aggiungere anche la YA. E in entrambi i casi sarà giusto. Ad esempio, PRIVIOSSHI si può aggiungere anche YA. PRIVI-SIA. Prignos, prigni-SIA. E ultima regola numero quattro. Se i verbi maschili nel passato, naturalmente, vedete EL terminano con SIA, questa tutta parte, il SIA, UN PASNAKOMIL-SIA. Lui ha conosciuto una ragazza. PASNAKOMIL-SIA. Quelli che terminano in SIA avranno sempre la desinenza WSHIS. E allora ricordiamo quattro tipi di desinenze W, SHI, JIA, WSHIS. Vi ricordate come creare il passato, no? Dire, STO SDIELAT, SKASAT, togliamo questa parte e aggiungiamo la EL. STO SDIELAT, ON SKASAL. Se c'è EL, per creare gerundio, basta scambiare con W. Cosa dobbiamo ricordare? Che imperfittivi hanno questi soffissi, IA e A, perfittivi W, IA, SHI, WSHIS. Importante sapere quando si usa imperfittivo, per azioni che avviene contemporaneamente all'azione del proposizione principale. Mentre o durante, ad esempio, mangiando la mela, ho visto la ragazza, o stando al bar, ho bevuto un cocktail, o quello che volete. Invece, perfittivi si usano o indicano un'azione che è avvenuta prima dell'azione del proposizione principale, dopo aver fatto. Questo è importante. Perché usiamo il passato per creare il gerundio per perfittivi? Perfittivi, vi ricordate? Non hanno il presente. Ricordate questo. Adesso ricapitoliamo le nostre regole. Se termina con EL, scambiamo con W, oppure WS, raramente capita. Alcuni esempi. È stato licenziato. Se termina in altra consonante, si inserisce SHI. La regola numero due, ricordate? Portare, previsti. Il passato, on, previous. E gerundio, previous, SHI. Vedete, abbiamo aggiunto SHI perché non è una EL. Soltanto dopo EL mettiamo W. In altri casi sempre SHI. E sarebbe aver portato previous SHI, avendo raggiunto DASTICHI. Anche qui raggiungere DASTICHI, ON DASTICHI, DASTICHI. Regola numero tre, quando forma doppia. Si può pregni-SIA o pregno-SCHI. Entrambi, e con IA e con SHI. E se terminano INSIA, aggiungiamo sempre WSHIS. E abbiamo già visto. Paznakomivшись s девушкой, on paprasil io nomer telefona. Avendo conosciuto una ragazza, le ha chiesto il numero di telefono. Paznakomivшись s chiem, caso strumentale, s девушcai. On paprasil кого? Eio, il genetivo. Paprasil что? Accusativo. Il numero. Nomer. Numero чего? Genetivo. Telefona. Altro esempio. Napisav. Anche la domanda facciamo, что сделav. Vedete, con S per perfecTV. E con V invece di L. Что сделav. Dopo aver scritto una lettera, la spedita via mail. Napisav pismo, что? Anna отправila jevo, чем? Electronne pochte, caso strumentale. Dopo aver cenato, siamo andati a letto. Paужinav, me legli spati. Dopo aver ascoltato le relazioni fine alla fine, lui ha lasciato il congresso. Vyslushav daklad da canca, un uschol z congressa. Vyslushav daklad da canca, un uschol z congressa. Paужinav, me legli spati. Napisav pismo, Anna отправila jevo elektronne pochte. Così dovete leggere. E allora ricordiamo, che in italiano esistono anche i verbi usiliari, avere e essere, che non si usano in russo. E prossimamente riguardiamo come dobbiamo dire. Naturalmente anche questi verbi, voi ricordate che hanno gerundio, avendo, essendo. E anche il verbo stare, prossimamente riguardiamo o io sto andando a letto o noi stiamo studiando adesso e tutto quanto. e anche il verbo stare al gerundio, stando. Per cui riguardiamo tutto. Ah, per adesso basta. Buonanotte. Grazie ragazzi. Ciao. Alla prossima.